In collaborazione con Piemontino Valgrana, semplicemente buono. Chiedi al tuo installatore un impianto a gas BRC. Piemontino Valgrana, semplicemente buono. Ciao amici appassionati, ci troviamo qui a Val Vasone, provincia di Pordenone, ed è da dove transita una parte del percorso del Bahia Italian mondiale e del Bahia autunnale che partirà proprio domani. Noi siamo qui a fare una prova in anteprima del Toyota Toyodel che usa normalmente Alves Borsoi. Una macchina non qualunque perché è una macchina che ha vinto l'ultima prova che era appunto il Bahia in Costa Smeralda. E' il quinto in campionato. Questa macchina nasce dalla base di una foristata Toyota, giusto? e poi è stato ampiamente modificato. E' stata tenuta la cellula centrale, mentre tutta la parte anteriore e posteriore è stato fatto un vero telaio tubolare che poi va a legarsi con la gabbia, con la centrale. Adesso andiamo un po' a vedere nei dettagli di cosa si tratta. Nicola, spieghiamo un attimino bene come è fatta nei dettagli di questa macchina. Parlavamo della gabbia di sicurezza che diventa poi in realtà il vero telaio della macchina che si va a legare con quella che è la base, cioè i longheroni. Questo è un tipo di telaio fatto ancora, diciamo, vecchio stile, cioè con i longheroni e la scocca sopra. Per cui dai longheroni si lega tutta questa struttura in tubi che vediamo che va a raggiungere le sospensioni davanti e le sospensioni dietro. Per cui dà dei valori di rigidità notevoli. Allora, poi, come diciamo, questo è un vero prototipo, perciò come possiamo vedere la posizione di guida è piuttosto retrata innanzitutto, questo per bilanciare i pesi. Abbiamo poi un cruscottino digitale. Qui, come vediamo, la leva del cambio sequenziale è un Sadev 6 marce sequenziale. Lì il freno a mano, sempre utile quando bisogna girare sullo stretto. Allora, poi, come vediamo. Qui abbiamo la pedaliera, che è una vera pedaliera da corsa. Infatti abbiamo i due bilancieri per la ripartizione della frenata sui due assi. Qui abbiamo due pompe, ognuna lavora su un asse e il pilota può intervenire e così via. Cos'altro può fare il pilota? Ad esempio mi dicevi che può cambiare le mappature del motore. In questa vettura si può cambiare delle mappature del motore. Più che delle mappature sono delle differenze di erogazione. Tutto lì. Che possono essere particolarmente utili in caso di cambio delle condizioni, magari del fondo, più o meno vicido. Sì, oppure in caso anche di prove molto lunghe, prove molto corte, di percorsi molto accidentati, percorsi, diciamo, molto intrepidi, con molte curve, molte insenature. Ecco. Ecco. Allora Nicola, adesso so che questo ti dispiace. Mi piace molto perché qui sotto ci sono un po' di segreti, ma stavolta ti tocca, me lo devi proprio aprire. Come detto, come abbiamo visto, intanto vediamo la struttura del telaio tubolare che arriva qui davanti. Questi sono gli attacchi superiori degli ammortizzatori, le sospensioni si prolunga fino a qui davanti. E questo è il cuore di cui parlavamo prima. Parliamo di un BMW 3000 Turbo Diesel che, mi dicevi, va lasciato, per quello che dice il regolamento, va lasciato esattamente di sede per quanto riguarda gli organi meccanici e anche accessori tipo appunto il turbocompressore. Questo perché? In questo caso noi siamo in normativa FIA, quindi possiamo gareggiare su gare del Mondiale e così via. Per poter mantenerlo di serie, ma avendo così anche molta affidabilità, possiamo usufruire della flangia da 38 km sul condotto d'aspirazione. Parliamo della flangia d'aspirazione che è dove esattamente? Diciamo che è qui sotto, montata all'ingresso delle turbine. Perfetto, in modo che mentre chi può o chi sceglie la configurazione veramente prototipo, in quel caso deve scendere con una flange da 35 km. Da 35, perfetto. Allora, diamo due numeri di questo motore, potenza, coppia. Allora, come potenza siamo sui 280 cavalli, con una coppia massima di 750 Nm. E in questo caso noi abbiamo un'erogazione, diciamo, la spinta utile comincia dai... Diciamo che la spinta utile inizia dai 2.800-2.900 giri, diciamo, fino al massimo di 4.100. Allora, poi qui cosa abbiamo? Vedo che abbiamo una bella sberla per il raffreddamento. Qui abbiamo il raffreddamento dell'aria, un intercooler. Un intercooler che anche in questo caso, come dicevamo, può essere cambiato da quello che è la parte originale del motore, a differenza del turbocompressore, però deve essere sempre... deve derivare comunque da una vettura di serie. Sì. In questo caso da... In questo caso deriva da una... diciamo, da veicoli di origine Volkswagen, Audi. Qui abbiamo invece un radiatore... Dell'olio. Ok, radiatore dell'olio. Mentre poi i radiatore dell'acqua, in questo caso, li abbiamo dietro, poi li faremo vedere. Infatti, se potete vedere quella fessura che, diciamo, determina la capottina, è l'ingresso dell'aria per i radiatori posteriore. C'è un comodiatore d'olio. Ci siamo spostati sulla parte posteriore. Come dicevamo prima, anche qui vediamo i tubi della gabbia che arrivano nella parte posteriore e fanno l'attacco superiore, praticamente, delle sospensioni, dei doppi ammortizzatori. Sempre come stavamo dicendo, qui vediamo il pacco radiante che, insomma, anche in questo caso è una bella sberta. Avete problemi particolari di raffreddamento in questo tipo di gare? No, no, non eccessivi, diciamo, non sono... Perché vedo che ci sono anche dei troventoli, quello serve per aiutare... Sì, quello serve per aiutare il flusso, perché ovviamente è incanellato in un convogliatore e purtroppo non è che arrivi una grande quantità. Se necessita, abbiamo le ventole che si azionano in automatico a seconda della temperatura del motore. Quando scatta una certa soglia di temperatura. Ok, poi qui abbiamo, tra l'altro, il serbatoio del carburante centrale, 120 litri. Quanta autonomia avete con questo tipo di serbatoio? Allora, all'incirca siamo, diciamo che per 100 chilometri usiamo all'incirca sui 40 litri di gasolio. Quindi, poi facendo i calcoli, diciamo, ha una buona autonomia. Ok, qui abbiamo due ruote di scorta che possono sempre, si spera di non doverle mai usare. Si spera di non usarle, però... E qui possiamo, ecco, introdurre un argomento abbastanza interessante. Voi qui usate delle pneumatici FEDIMA, giusto? Esattamente, sì. Ricoperti. Ecco, sembra un assurdo, perché una delle dicerie, diciamo, normali è che il pneumatico ricoperto non abbia resistenza. Invece, in questo caso, per una gara così stressante, utilizzare pneumatici ricoperti può sembrare quasi un assurdo. Invece, mi dicevi che vanno benissimo, sono assolutamente affidabili. Sono affidabili, sì, sì. Ok, tra l'altro avete diverse tipologie di gomme in funzione dei vari fondi stradali. Avete per cui dei disegni diversi e delle mescole diverse. Mi dicevi quattro tipi di mescole, giusto? Quattro tipi di mescole diverse, anche conforme anche il tempo, com'è? Sì, sì, se trovi appunto fondo scimoloso, fangoso, piuttosto che duro e così via. Sì, 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 sì. L'altra cosa che possiamo far vedere, già che ci siamo, ecco, è la parte posteriore del telaio, tutta la culla inferiore, completamente ricostruita e i bracci sospensione che, come possiamo vedere, dato il tipo di gara e gli sforzi che devono sostenere, come possiamo vedere, sono belli, belli dimensionati. Bene, Nicola, allora, adesso mi hai spiegato questo mostro, insomma, com'è fatto. A questo punto non rimane altro che provarlo, insomma, per vedere veramente come va. Allora, adesso Nicola ci spiega un attimino un po' la strumentazione. Qui abbiamo un bello strumento digitale dell'AIM, cosa può leggere il pilota? Allora, il pilota qui può leggere le marce, quindi dalla prima alla sesta, in un livello di sprechi centrale. Possiamo leggere la temperatura dell'olio del motore, dell'acqua, la pressione, del turbo, la quantità di gasolio che abbiamo nel serbatoio, quindi riserva o non riserva per poter, diciamo, i parametri principali di funzionamento del motore, insomma, per vedere che tutto vada bene. Come vediamo, questa è la bella leva del cambio sequenziale. Abbiamo già detto, ecco, il cambio è dotato di cut-off. Cosa significa? Che noi potremo cambiare in salita di marcia senza mollare il gas e senza l'uso della frizione, così come in scalata. Anche se in scalata, per evitare di dare delle botte alla trasmissione, noi la useremo sicuramente ed è comunque consigliabile. Questo è, diciamo, l'ufficio del PIA. Questo è il freno a mano che serve per girare nelle curve più strette. Ma c'è anche una parte molto importante in questo tipo di gare per il navigatore, o chiamiamo il copilota in questo caso, perché poi è un equipaggio che corre in questo tipo di gare ed è molto importante. Allora, il copilota, quali strumenti ha a disposizione? Cioè, vediamo che è una bella strumentazione elettronica. Sì, allora, il copilota qui ha a disposizione principalmente dei contametri, sarebbero. Noi abbiamo degli X-Trip, sono dei track system, che mi dà la possibilità di contare i metri di avanzamento della macchina, in maniera da sapere la prossima curva, quant'è, e riferirla ovviamente al pilota. A questo punto non rimane altro che provarlo, insomma, per vedere veramente come va. Allora, come va. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.